Cari concittadini, desidero rivolgervi i miei auguri per una serena Pasqua, in un momento così difficile, non solo per la nostra città, ma per il nostro Paese e più in generale, per la situazione che stiamo vivendo. Siamo inseguiti dalla pandemia, dal riesplodere della pandemia. Bisogna stare attenti e raccomandiamo a tutti il rispetto delle norme principali scritte dalla legge. Speriamo che le cose vadano bene sotto questo profilo, speriamo che la pandemia esca dalla nostra vita che ha provocato lutti e difficoltà a centinaia di milioni di persone, a migliaia di persone nella nostra città. Anche siamo in presenza di una guerra feroce che dopo 70 anni di pace colpisce l'Europa, è una guerra pericolosa che può trasformarsi in qualcosa di terribile e speriamo che questo non avvenga. Rivolgo anche la mia attenzione alla nostra città che è impegnata in una battaglia per superare anni di stasi, di smobilitazione delle risorse e delle energie che sono necessarie per guardare avanti, per guardare al futuro di questa città, al futuro del mondo del lavoro, delle prospettive dei giovani, delle giovani generazioni, alla crescita dei servizi. È un compito difficile quello che ho assunto, che certo sta pesando gravemente perché onestamente devo confessarvi di aver trovato una situazione drammatica. Ma non mi perdo d'animo, sono sicuro del vostro aiuto, del vostro consenso e questo a me basta per ritrovare giorno per giorno, mattina dopo mattina, le mie energie al servizio della città e dei vittoriesi. Per me è un pregio, per me è un onore quello che voi mi avete dedicato, consegnato, un onore che io intendo rispettare, costi quello che costi, anche se è faticoso, ma sono impegnati in questa direzione. Il 2022 rimarrà nella storia di Vittoria come uno degli anni più difficili che ricorderemo, che le giovani generazioni ricorderanno questo 2022. Ma dai pochi mesi, dai cinque mesi di mia permanenza nella sede dell'amministrativa di sindaco, io ho potuto scandagliare, monitorare in profondità la vitalità e l'energia che questa città ha e che deve mettere in campo con l'aiuto dell'istituzione, con l'istituzione che camminano davanti ai cittadini e ai bisogni dei cittadini e non stiano dietro. La macchina amministrativa sicuramente è fragile, è debole, dobbiamo irrobustirla, mancano i soldi per fare i servizi e la politica lascia molto a desiderare, rimane impigliata in battaglia di retroguardia, schermaglie, quando il territorio rivendica slancio, forza, mobilitazione, capacità progettuale, capacità di costruire il futuro. Io in questo sono impegnato e spero di essere all'altezza. Quell'esperienza che ho potuto accumulare in tanti anni si sta misurando con difficoltà asperrime, difficili, che sfiancherebbero persino un elefante. Io invece sono qui con la mia volontà, con la mia umiltà verso i cittadini, tutti i cittadini vittoriesi, da chi può a chi non può, dagli umili, dai più fragili e devo dire che in questo percorso sto trovando tanta attenzione, non soltanto da parte di cittadini politicamente o ideologicamente impegnati, ma da tanti settori della società vittoriese che nel passato non sentivo vicini. Oggi sono affiancato da energie nuove, importanti, che io ringrazio, e ringrazio pubblicamente, come vorrei ringraziare in questa circostanza pasquale, il signor Vescovo, il clero vittoriese, per l'attenzione e la cura che manifestano nei confronti di questa nostra città di Vittoria. Io sono felice di questa attenzione che riservano alla città di Vittoria e ringrazio tutti, tutti gli ospiti di questa città, ringrazio coloro i quali vivono a Vittoria, insieme dobbiamo migliorare, insieme dobbiamo ricostruirla questa città, anche con le comunità delle migrazioni, dei migranti con cui dobbiamo discutere, dobbiamo vincere questa sfida. Non necessariamente dobbiamo vivere nel disordine, nella contrapposizione, nel razzismo, dobbiamo vivere insieme, ma tutti insieme dobbiamo sentirci impegnati a costruire la nostra città. Un abbraccio ai ragazzi, un abbraccio ai bambini, un abbraccio alle famiglie. La concludo così, perché diversamente abbraccerei tutti, ed è veramente che io abbraccio tutti in questa Pasqua 2022 che la città sta vivendo in queste ore così difficili, ma che è base per guardare avanti e base per un futuro migliore. Un saluto a tutti.